Erano attese in questi giorni e sono arrivate le ordinanze del giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, ordinanze che confermano la linea seguita dal Consiglio di Amministrazione dell'Operapia Cardinale Ernesto Ruffini e che riconoscono soprattutto la natura privatistica dell'ente che nel 2016 aveva tentato ogni strada per mantenere i servizi e proseguire nel rapporto con i propri dipendenti. A nulla erano serviti gli appelli dell'Arcivescovo Corrado Dolorefice che aveva chiesto un'assunzione di responsabilità per avviare un progressivo risanamento dell'Operapia che scontava, così come tutte le ex IPAB siciliane, l'azzeramento del capitolo regionale. L'appello dell'Arcivescovo non era stato raccolto, inevitabile e legittimo, quindi lo stop ai servizi non più sostenibili e la protezione degli utenti attraverso l'ASP e gli uffici del Comune di Palermo. Le sentenze del giudice del lavoro di fatto giustificano i provvedimenti adottati dall'Operapia, primo fra tutti la risoluzione del rapporto di lavoro con i 42 dipendenti che, secondo la nota diffusa oggi dal CDA dell'ente, non saranno reintegrati proprio perché nel frattempo sono cessati i servizi. Però, considerata la situazione dei lavoratori privi di reddito e di prospettive occupazionali, l'Operapia Cardinale Ruffini, che aveva già offerto questa disponibilità, corrisponderà a ciascuno dei dipendenti che hanno intentato la causa, una somma parametrata secondo i criteri indicati nelle sentenze. Nessuno quindi sarà abbandonato. Adesso l'Operapia guarda invece a come rigenerarsi per continuare a servire la chiesa e il territorio di Palermo.